Che stai facendo tu con questa cosa? Come stai a mezzino? No, aspettare che costa! Lavamo le mani, lavamo le mani Oh, guarda che buona è! Ehi, è uno buono a buttare! Ehi, è uno buono a buttare! Ehi, è uno buono a buttare il colore rosso con la piccia! A buttare questa lava di mano! La lava di mano! La lava di mano! La lava di mano! La lava di mano! Oh, vogliamoci piano questa mochina, eh! Ehi, costa, costa! Ah, perché quello ti costa? Ah, buono costa! Quanta Germania costa! Ehi, è uno buono! Ah no! Oh, come stai facendo? Ehi, è uno buono appare? Alla saluta! Alla saluta! Andiamo vivendo! Chi è? Chi è, e sto coso? Alla saluta! Bocchi di acido! No, a phara di acido! Ahhhh! Ma scusate, ma che cos'era che era più amore per mia? Ehi, tu dissi! Ehi, cosa del lato? Che cosa la Wisconsin! C'è ma tu a me mi vieni così lardo! Io sogno di alta classe! No ma di quanto costa la macchina? Che cosa mi faccio per me? Io sono di alta classe! Wow! Aspetta! Ma per le cascarlo tutto! E tu dici! Che cosa mi faccio per me? Di quanto costa la macchina? Si muore la coppa e tutto! Eh certo, se ti tapperei le casomai teneremo l'ospedale è la coppa mia! No non ci posso io l'ospedale, c'è un coronavirus! Eh certo! Ma che stasene fanno? Vediamo chi sta combinando! Vediamo che combina guarda! Come la bia all'interno! C'è questo magari che costa! Zio Doro che buono che si abbriaga! Facciamo una macchina e lo facciamo! Fa abbriaghi! Ma sai che buono è questo? Bello Sato! Bello! Questo è meraviglioso! Tutte queste cose! Chi sono a vivere? Ci vuole mettere in bocchia città? Ma la bia ma russa! Vediamo! Senti la mia materia è di alta classe! Nobile! Oh buono chiude! Viene che mi embriagare! Viene che classi c'è un mongere! Ma perché ogni cosa che assaggio pare è nascito! Tutto cosa è nascito! Tutto cosa è nascito! Ciao! Viene che a bia bia! Forza forza! Viene che a bia 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 bia! C'è un po' di mano! Una mezza mare! Viene che a bia 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 bia! Ma chi spetta ferro e chi spetta, però limoncello e limoncello! Ma chi on? Ma cosa e chi non so? Chi è questo? Ma su? Chi è tutto a questo governo? Che potiamo dire? Ma, sti bicchiere non li cattano stasfera, magari? Ma sti bicchiere non li cattano stasfera, magari? No, stasfera no! Sto al mercato! Sto al mercato! E i bicchiere non li cattano stasfera! Ma sti l'avete con stasfera! Ma che stasfera? Sto lavo con stasfera, a me non hanno decenne! Ma a me li lavasti! Sento lavati su Con la mochina Ti lavasse con la mochina Non c'era la mochina quando l'ho lavata MINGA Non è che fa morire il coronavirus Mi fa morire Mi fa morire Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto lavanti Finito ziutato Attiva e arrivederci